perché diventare sponsor a wine to wine 2018 in cinque edizioni è diventato il principale forum interamente dedicato al business del vino opportunità di networking con produttori e professionisti del settore diverse formule di sponsorizzazione per rispondere alle esigenze del vostro business visibilità online e offline prima durante e dopo l'evento insomma l'intera comunità del business del vino in una app ma quali sono i numeri di wine to wine 2018 beh ci saranno più di 100 relatori internazionali inoltre potrete assistere a più di 70 sessioni infine ci saranno più di 1500 partecipanti ma allora ci vediamo a wine to wine ciao 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 ciao